Amici della Capitania Immobiliare, benvenuti a questo nuovo video. Sono Andrea e oggi vi mostro un bilocale con cortile privato di 50 metri quadrati. Venite! Ingresso sul soggiorno con cucina a vista completa di tutti i retrodomestici. Forno, lavastoviglie e piano cottura in inizioni. È presente un divano letto. E inoltre abbiamo un comodo soppalco, ideale per studiare o lavorare. Bagno con sanitari sospesi e un'ampia e comoda doccia. Zona lavanderia a scomparsa. La zona notte, con un'armadiatura molto comoda. Letto matrimoniale. Ed anche qui troviamo un comodo ripostino, molto spazioso. La richiesta per questo bilocale in vendita è di 240 mila euro. Ciao, al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.